Il patron dell'Agrgas, Giuseppe Deni, è intervenuto in merito alla nota stampa diffusa recentemente dall'assessore allo sport del comune di Agrigento, Costantino Giulla, circa la volontà dell'amministrazione comunale di affidare a privati tramite un bando la gestione dello Stato di Seneto e del campo di calcio di Fontanelle. Il proprietario del club Briangazzurro dichiara nel corso di una conferenza stampa fatta ieri pomeriggio, da quel che mi risulta il comune di Agrigento riferendosi a una norma relativa alla trasparenza, che giustamente ci sta tutta, la concessione dello Stato di Seneto farà fede al regolamento degli impianti sportivi e dunque chiunque ha un interesse alla gestione della struttura potrà partecipare al bando, presentare la propria offerta e aggiudicarsi la gestione degli impianti. Se davvero il bando dovesse essere così strutturato, cioè senza ombra di dubbio una presa in giro nei nostri confronti, continuo a Deni, infatti se si fa riferimento al regolamento comunale, la società avrebbe in concessione il campo, ma per farne solamente attività calcistica, mentre fin dall'inizio avevo detto che per rimpinguare le casse dell'Agragas era necessario essere autorizzati e messi nelle condizioni di organizzare delle attività extracalcistiche, come ad esempio gli eventi musicali di altro profilo. Quindi, continuo a Deni, sto aspettando la pubblicazione ufficiale del bando per capire cosa hanno messo all'interno per poi fare le giuste osservazioni, ma dalle prime cose che leggo e dalle prime cose che sono venuto a conoscenza non mi sembra un bando tanto confortante nei nostri riguardi. Spero di sbagliarmi, continuo a Deni, e mi auguro di essere smentito per il bene dell'Agragas e dei suoi straordinari tifosi. Io ho rilevato l'Agragas perché ne sono tifosissimo e amo tantissimo questa squadra. Il mio sogno è quello di portarla nuovamente nel campo professionistico, ma ho necessariamente bisogno di avere uno Stato edonio e convortevole. Avere lo Stato Esseneto in gestione è di fondamentale importanza anche per fare crescere ulteriormente il nostro settore giovanile. L'Agragas, continuo a Deni, ha assunto anche una funzione sociale nel territorio, togliendo molti giovani dalle strade e dalle brutte esperienze. Ci sono tantissimi ragazzi che sognano di giocare con l'Agragas e noi vogliamo regalargli questa gioia, però senza lo strumento di lavoro, ovvero i campi di calcio, non possiamo fare nulla. Non ho mai chiesto contributi a sostegno finanziario, non ci servono. Chiedo solamente che l'Agragas possa avere in gestione lo Stato Esseneto e il campo di calcio di Fontanelle. Aspettiamo di leggere il bando ufficiale e poi faremo le nostre valutazioni. Conclude il padrone Giuseppe Deni nel corso della sua conferenza stampa.